Oggi, di sua spontanea volontà, mi ha rassegnato le dimissioni. Però lei non lo lascia solo? Assolutamente no, mi ha chiamato anche prima, lo sento sconfortato e addolorato. La storia piacerebbe a boccaccio per un moderno decamerone, se non fosse che adesso il protagonista è seguito personalmente dal sindaco che teme possa mettere in atto gesti sconsiderati. Certamente quello che ha combinato il 61enne Neo ed ora già ex consigliere comunale ad Arcade è stata una sconsiderata leggerezza, ovvero partecipare ad una video chat a contenuto erotico non pensando di essere ripreso. Così dopo la chiacchierata elettronica fatta al computer con tale Isabel Baccio, un cognome, un programma, completamente nudo e disteso sul letto, al protagonista è arrivato anche il ricatto economico con la minaccia di divulgare al mondo le sue nudità. E al diniego della vittima ieri è scattata la rappresaglia digitale. Io sono stato informato in tempo reale dell'interessato, il quale mi ha chiamato ovviamente disperato piangendo, dicendo appunto che qualcuno aveva postato un video e lo riguardava comunque che lo ritraeva in maniera strana. Una distribuzione virale in ogni sito legato alla vittima, primo tra tutti quello della lista del sindaco che si è trovato postato il video hard o meglio le immagini del suo consigliere senza veli e in atteggiamento inequivocabilmente erotico, ma senza altri coinvolgimenti. Non ci sono bambini, non ci sono persone, non c'è nessuno e non c'è niente di pornografico né di pedo pornografico. Scattata la denuncia, la Polizia Postale sta indagando sul profilo femminile che nasconderebbe un'organizzazione internazionale. Da qui l'appello al sindaco e ai suoi cittadini, nel tentativo di salvare la reputazione all'oramai ex compagno di lista. Non è un criminale, è una persona appunto, ripeto, che ha fatto un errore come tantissimi di voi, visto che la Polizia Postale dice che ci sono almeno 2000 casi di questo, non oso immaginare quanti ce ne sono che pagano, perché lo scopo di questi signori che adescono gente così, così diciamo un po' le sciocchina chiamiamola, è quello di portare a casa Patrini. Quindi state molto attenti, perché quello che è capitato a lui può capitare a chiunque di voi.